Indubbiamente trovo il teatrino che si è svolto in questi giorni non sempre di buon gusto, anzi tutt'altro. E devo dire che condivido la posizione del mio partito che ritiene quella di Rigutino la soluzione più plausibile, più possibile. La Lega Toscana tramite i segretari regionale e provinciale si era espressa nelle ultime ore. Secondo il partito del Carroccio la localizzazione della stazione Medio Etruria è Rigutino. Una presa di posizione condivisa anche dal consigliere regionale, membro del direttivo della Lega Marco Casucci, che ribadisce però l'importanza di tenere i riflettori accesi anche sul territorio cortonese. Nell'ipotesi in cui si dovesse convergere verso Rigutino, Cortona e come altri territori meritano delle compensazioni. Io ho lavorato tanto per portare concretamente una fermata dell'alta velocità a Terontola. È stata confermata per il 2024 ma c'è tutto il tema della stazione ferroviaria di Terontola. Il territorio merita tutto di essere considerato. E proprio la scelta di Medio Etruria Creti aveva acceso il caso Cortona, segnando una spaccatura nel centro-destra a Retino, soprattutto tra Lega e Fratelli d'Italia, con il rebus sulla riconferma del sindaco uscente Luciano Meoni. Per quanto mi riguarda devo dire due cose. La prima che ho dato a prescindere la mia disponibilità a candidarmi per il bene del territorio, secondo gli ideali che mi vedono impegnato in Lega da 15 anni. La seconda è che opererò sempre nel mio possibile per trovare la quadra unitaria.